Ciao a tutti, quest'oggi vi mostrerò come fare una farm di zucche automatica e compatta. Essendo compatta, servirà a raccogliere solo una zucca per volta. Se vogliamo raccogliere più zucche, dovremo farne altre in serie. Cominciamo con il fare una buca al lato di un blocco di terra, che riempiremo d'acqua. In tutti gli altri lati, dovranno esserci blocchi sui quali la zucca non potrà crescere. Piantiamo un seme di zucca e diamogli della farina ad ossa. Poi, scaviamo ad elle di lato alla terra e quattro blocchi più in sotto. Mettiamo qui un doppio baule e poi una tramoggia puntata verso di esso. Un'altra di lato e un'ultima sopra questa. Mettiamo dove crescerà la zucca un blocco qualsiasi e puntiamo agli addosso un blocco osservatore. Sopra di esso, mettiamo un pistone rivolto verso terra. Successivamente, mettiamo due blocchi solidi al lato del pistone. Uno qui, uno appena dietro all'osservatore, un altro in diagonale e un ultimo qui. Ora, facciamo i collegamenti di redstone. Mettiamo un'unità qui, una qui e un'altra qui. Poi, mettiamo delle torce di redstone qui, qui e un'ultima qui. Mettiamo un ripetitore qui e clicchiamo due volte su di esso. Mettiamone un altro qua sopra e clicchiamoci su tre volte. Infine, togliamo questo blocco. In questo modo, la nostra farm di zucca automatica è completa. Ogni volta che la zucca crescerà, il pistone la romperà e verrà raccolta dalle tramogge, finendo nel doppio baule che abbiamo messo sotto. Con questo è tutto e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!